C'erano circa mille studenti del Vallo di Viano ieri a Napoli, hanno preso parte al corteo contro le mafie. Ieri era la 27esima edizione della giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da libera e avviso pubblico. Napoli, hanno spiegato i promotori, è stata la piazza principale ma simultaneamente in centinaia di luoghi. In Italia il momento è stato vissuto attraverso la lettura dei nomi delle vittime l'ascolto delle testimonianze, nel segno di una memoria che non vuole essere celebrazione ma strumento di verità e giustizia. Il 21 marzo è ogni anno un'occasione di riflessione, una giornata per dire no alle mafie, alla corruzione, all'indifferenza e ieri c'erano anche i ragazzi del Vallo di Diano. Ha rappresentato per noi, spiegano dall'Unione studenti Vallo di Diano, il momento per far sentire chiara la nostra voce rispetto a cosa significhi oggi fare antimafia sociale nei nostri territori. Il Vallo di Diano, troppo spesso considerato un luogo privo di infiltrazioni mafiose e onoasi di liaca in cui crescere, è in realtà costellato di avvenimenti che ci riportano alla realtà, come le inchieste che hanno portato alla luce situazioni disastrose rispetto al fenomeno dell'interramento dei rifiuti ad opera mafiose che ci hanno spinto, come studenti e studentesse, a mobilitarci per chiedere alle istituzioni una risposta reale che ci tuteli e garantisca il nostro diritto a restare. Inoltre, in una regione che vede dei tassi altissimi di criminalità e dispersione scolastica, è impensabile credere che le due cose non siano collegate. Necessario è quindi porre al centro la tematica del diritto allo studio e del libero accesso ai saperi ripensando il nostro sistema educativo, al fine di garantire possibilità reali a chi vive in contesti di povertà educativa. Lottare contro le mafie, per noi, concludono, significa anche chiedere a gran voce un diritto allo studio che sia davvero inalienabile e garantito.